Tramite la Caritas di Ocesana e in collaborazione con la Prefettura di Brescia, anche l'unità pastorale Bevilacqua, che comprende le parrocchie cittadine di Sant'Anna, Sant'Antonio e San Giacomo, si è attivata per accogliere chi fugge dalla guerra in Ucraina. Grazie alla disponibilità di uno spazio abitativo, la parrocchia ha accolto una mamma con due figli di 2 e 16 anni. In queste settimane l'oratorio, la Caritas e le Acli, sono impegnate anche nella raccolta dei materiali, dalle lenzuola alle stoviglie. Faccio parte del gruppo Il Buon Samaritano, che si è creato nell'unità pastorale Bevilacqua, nell'Oltremella Bresciano, e durante il primo periodo dell'emergenza Covid abbiamo rilevato la necessità di assistere alcune famiglie della nostra zona, che a causa proprio dell'emergenza di quel periodo si sono trovate in difficoltà economiche. Col passare del tempo, però, nonostante l'emergenza Covid si sia un po' allentata, purtroppo si è verificata questa emergenza della guerra in Ucraina e una signora che fa la badante qui a un anziano del nostro quartiere ci ha segnalato la necessità di poter ospitare la figlia con due ragazzini, uno di 17 anni e l'altro di due, che scappavano dall'Ucraina. Per cui ci siamo un po' attivati e grazie alla generosità di una nostra parrocchiana, che aveva un appartamento sfitto, abbiamo potuto accoglierli. Questo appartamento è stato un po' sistemato a livello strutturale, già arredato e tutto, sempre grazie al gruppo di volontari, comunque chi ci ha aiutato anche solo temporaneamente, abbiamo potuto ospitare questa signora con i due figli. Il ragazzo un po' più grande è stato inserito in un percorso scolastico come uditore, diciamo così, però c'erano già dei ragazzi ucraini che avendo anche l'insegnamento della lingua russa hanno potuto un po' inserirsi. Prosegue nel frattempo la raccolta fondi di Caritas e Diocesana, che ha superato i 500 mila euro per il sostegno all'emergenza e all'accoglienza sul territorio.